Via Libera del Governo Musumeci ha l'individuazione in Sicilia dei siti dove poter trattare e smaltire l'amianto con un prevedibile risparmio in termini finanziari e ambientali. L'Aggiunta regionale ha approvato la delibera dell'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità Alberto Piero Bon che avvierà l'iter per la realizzazione dell'impiantistica necessaria per la trasformazione dei manufatti contenenti amianto o per il loro smaltimento finale. Oggi nell'isola si trovano solo impianti di stoccaggio provvisorio e l'amianto viene portato fuori anche all'estero con costi esorbitanti che spesso non pongono alcun freno all'abusivismo. Lo smaltimento dell'Eternit ha dei costi che variano tra 400 e oltre 500 euro al metro cubo in base a vari fattori come la quantità, la distanza dalla discarica e il tipo di manufatto. Nel frattempo la protezione civile lavora per l'approvazione finale del piano amianto che consentirà di intensificare la lotta contro lo smaltimento irregolare e bonificare tutto il territorio siciliano. Ogni comune dovrà varare un proprio piano e potrà avvalersi del lavoro svolto dalla regione che mapperà dall'alto anche tramite foto satellitari la presenza di potenziali manufatti in amianto che dovranno comunque essere verificati e confermati dagli enti locali. A quel punto smaltire tettoie, cisterne o canalette in maniera irregolare sarà molto rischioso per cittadini e aziende perché la normativa prevede multe salate e persino l'arresto.